Adesso sembra che ci sia il capo dei vertici arbitrali, Nicchi, poi anche il disegnatore, difendono a spada tratta l'operato arbitrale, ogni tanto anche ammettere quando si sbaglia, quando ci sono delle cose che sono molto evidenti. Si parla di un cambio, mi pare che sia il titolo disegnatore, Sì, è proprio il titolo, facciamolo inquadrare al nostro grande Claudio, al nostro operatore, sembra che cambia il disegnatore, arrivi Rosetti al posto di Braschi, non so se sia per un fatto punitivo o per che cosa, tu cosa ne pensi? Miglioreremo soprattutto. Questo qui potrebbe essere sicuramente un avvicendamento che già era stato deciso da tempo, però io spero, spero che si sia agito prima e che si agisca poi dopo con onestà. Questa è la mia speranza. Poi dopo i fatti ci daranno più o meno ragione, ma speriamo in questo. Bene, speriamo. Intanto comunque si lavora sincero sul mercato, qui abbiamo una pagina interessante, sempre della Rosea. non è che siamo patiti della Rosea, ma il giornale comunque va per la maggiore. Non è che spesso ci sia molto benevole ai nostri confronti. Sì, qui facciamo inquadrare, questo è uno dei possibili nomi del mercato dell'Inter ed è quello che francamente mi piace di più. Sono contento di Vidic perché è un grande difensore, però l'età di Vidic è quella che mi lascia un po' perplessa. Invece qui abbiamo Michel come centrocampista, indubbiamente l'Inter deve alzare il tasso atletico e anche tecnico del centrocampo. L'età di questi giocatori di colore è sempre molto approssimativa. Se questi 26 anni sono veritieri, questo è già un acquisto che mi piacerebbe. Assieme anche a Capoe, un altro nome che si fa. Il centrocampista del Chelsea è un ottimo giocatore, messo davanti alla difesa farà sicuramente da schermo e poi è il pupillo di Murigno. Ha un'età che rientra in quelli che sono i parametri imposti da Toir. Quello che però non capisco è l'acquisto di Vidic e l'eventuale di Sagnà. Perché se vogliamo puntare su dei giovani, questi già hanno oltre 30 anni. Poi si era parlato di un tetto salariale, di un ingaggio non superiore a 2 milioni e mezzo. Adesso credo che con Vidic si sia sforato. E quindi già si parla di un monte ingaggi per venire meno a questa cosa qui. Quindi facciamo un attimino chiarezza e poi dopo iniziamo a prendere giocatori. Comunque Michel è un ottimo calciatore. Sì, il progetto infatti si era parlato sempre di giovani. Come ho detto prima, avevo un po' ironizzato sull'età. Sagnà, Nimaia Vidic, ma anche Hernanes non è oltre i 30, però ne fa 29 a maggio, non è esattamente un ragazzino. Vedremo, nell'estate sicuramente ci saranno molti cambiamenti nell'Inter. Secondo me anche a livello societario, un po' come chiede la tifoseria. Bene, ma adesso passiamo ad un argomento un pochino più leggero, di cui anche la Monica è protagonista. Tu lo sai anche Ciro che noi ogni anno eleggiamo la tifosa dell'Inter più bella con il concorso Miss Stella Nerazzurra, che è giunto alla quinta edizione e si è invitato naturalmente. Non mi ricordo che l'hai visto gli altri anni. Purtroppo no, perché sono sempre in giro per il mondo per gare o allenamenti e quindi mi viene difficile, però sicuramente alle prossime edizioni sarò presente. Ecco, bravo. Così ti facciamo correre sulla passerella assieme alle modelle. Ecco, allora, noi abbiamo fatto una serata di presentazione il 19 febbraio, mi pare che fosse, alla Banero, dieci bellissime ragazze, hanno sfilato, ha presentato Monica. Non ha voluto sfilare lei, non so. Ma come mai? Alzati pure in piedi. Ma sei nei parametri interisti, come vedi? Sono nei parametri, lo sono fuori d'Italia, l'ho già detto un'altra volta, non torniamo sull'argomento. Tra l'altro ho compiuto gli anni lunedì, quindi ero proprio al limite limite, no. Presentato però la serata, è stata una bella serata. Ricordiamo che era la serata di presentazione, non era la serata ufficiale, che ci sarà invece questa primavera, ancora in data e in luogo da concordare, però abbiamo avuto una preserata, diciamo, chiamiamola così, dove c'erano dieci ragazze. Dieci ragazze e noi dobbiamo invitare Monica a dirgli come contattarci, lo farai poi alla fine della trasmissione, perché chi ci vede, chi ci segue, chi vuole indicare la propria ragazza oppure le ragazze che ci seguono, se vogliono iscriversi, noi li prendiamo di volentieri, ovviamente requisito una fede nerazzurra a prova di bomba e poi requisiti, tipo quelli della Monica, più o meno. Non ci mancherebbe, no, è così. La presentatrice è all'altezza, ovviamente, delle ragazze che sfileranno. Comunque, sei nei parametri, te lo dico, perché sia di fotogenia che di età. Grazie, ci penso per il prossimo anno, allora faccio ancora in tempo il prossimo anno. Ne approfitto per salutare l'Irene, ciao Irene, che tra l'altro ha sfilato anche lei e parteciperà anche lei al concorso, ovviamente. È vero, l'Irene, che è la valetta bionda, che di sotto è quello che chiamo tacco di Dios, la tua metà. Esatto, chiamiamo la mia metà. La sua metà, la sua metà. In due quanti chili fate? Siete così magri. Va abbastanza. L'Irene ha sfilato, anche lei sì, non ha vinto, ma diciamo che era come un test, quindi non era decisivo. L'Irene può giocarsi tranquillamente le sue carte, molto meglio di quello che può fare l'Inter nel proseguo di stagione. Tra l'altro lei è stata anche protagonista del calendario Limonelle Nera Azzurra, quindi l'Irene la salutiamo, la ritroveremo tra un paio di settimane, perché adesso è impegnata con programmi di studio, giustamente, studenteschi. Bene, abbiamo presentato questo, dobbiamo ricordare che abbiamo il concorso sempre a Zecca il pronostico, e quindi adesso far chiederemo a voi due, vi chiederò il pronostico su Roma Inter. potete anche, azzardiamo anche qualcosa di negativo, che forse porta la fortuna, perché mettiamo tutti l'Inter vincente. Non ce la faccio, con tutta la buona volontà non ce la faccio. No, no. Non ci riesco. No, uno o due. Uno o due. Io do fiducia a Icardi, e per me un gol sarà suo, e l'altro ovviamente è mio, Hernanes. Hernanes e Icardi, sperando che Hernanes ci sia. Tu invece, Ciro, come la vedi? Io dico che sabato avremo un calcio di rigore. Sabato avremo un calcio di rigore, magari anche, no, a favore, anche non nettissimo. Così noi vinciamo, ci zittiscono, la Juventus prenderà il volo, e tutti vissero felici e contenti. Però credo che potremmo anche vincere la partita, perché non dimentichiamo che si gioca in uno stadio quasi senza spettatori, le curve e distinti laterali sono vuoti, e potrebbe anche uscire una lieta sorpresa per noi. Ma hai rubato l'argomento di bocca. Intanto, sì, c'è questo aspetto delle curve chiuse, e poi è un aspetto da vedere se c'è una cosa positiva a fare attuare questo tipo di provvedimenti. Sicuramente anch'io pensavo, ho questo pensiero che mi sfiora, che il primo rigore che ci arriva arriva proprio in una partita in cui se noi andiamo bene facciamo un favore ai nostri rivali più accesi, cioè alla squadra che faccio fatica, è sempre nominale, soprattutto con nome giusto. Mi veniva un'altra cosa, comunque la Juventus. Perché naturalmente se noi fermiamo la Roma lo scudetto direi che è praticamente in tasca alla famiglia Agnelli. Quindi è la partita giusta perché ci succeda qualcosa di favorevole in questo senso. Il mio pronostico, quindi forse un rigore ce lo danno, due, uno a uno, via, uno a uno con il rigore segnato, il rigorista chi è? Perché poi adesso dire chi segna il rigore che è, ma non so me, non li provano neanche in allenamento, perché tanto non ce li danno. Provo a dire, improvviso, ma improvviseranno, magari Guarin, non so, tirare la segnata, Guarin su rigore. O Palassio, no, Palassio perché lo fanno andare avanti anche se viene il marcatore, dai, Palassio su rigore. Uno a uno. E tu allora come le vedi le curve chiuse? Ti piacciono le curve chiuse negli stadi? No, per me lo stadio è fatto anche dalla curva, secondo me è la base principale. Per me è un peccato, è un peccato e ci vuole criteri ovviamente per restare in curva, però non so, vedremo. Secondo me non è una gran cosa, è uno stadio un po' morto. volevo tornare, poi chiudiamo, l'ultimo, un argomento interessante perché poi le chiusure delle curve vengono per tanti episodi. Ecco, mi trovi la pagina di Toro Juve quando si giocava? Domenico, fin lunedì dovrebbe esserci? Ecco qua. Perché a parte la diade dell'episodio del rigore, una cosa molto, molto, molto spiacevole del derby di Torino, sono stati degli strissioni esposti, ricordiamo che si giocava per di pezzi, E prova a vedere, vediamo forse girare la pagina successiva, eccole qua. Ecco, perché la cosa molto brutta, si giocava, ricordiamo Torino, non è come San Siro, in termine giocano nello stesso stadio, la Juve è il suo, il Torino gioca all'Olimpico, si giocava quindi all'Unitu Stadium, un Toro vera e propria trasferta per quelli del Toro e qui ci sono degli strissioni che adesso preghiamo Claudio di inquadrare che fanno riferimento purtroppo alla tragedia di Superga che nel 1949 vide perire il grande Toro, il grande Torino in un incidio intero che è passato alla storia, tragico, quindi io mi domando se dobbiamo riscendere a questi livelli perché leggi pure tu quello che c'è scritto. tifosi bianconeri mostrano scritte su Superga poi nello striscione guarda per me mi vergogno anche a leggere mi vergogno io sono uno schianto quando volo penso al Toro che è una cosa per me bruttissima cioè proprio direi che abbiamo già detto tutto ma questo non tanto perché sono stati i tifosi della Juve a macchiarsi di questa spiacevolissima di questa cosa vergognosa poi capita a tutte le tifoserie di tirar fuori cose di questo tipo questo non è sport non è calcio e certamente dopo se si chiudono curve ci sono dei perché forse non è il provvedimento più indicato ma queste sono persone che comunque dovrebbero andare in galera questo è il loro posto speriamo che non si siedano più la Juve rimarchiamo comunque ha chiesto scusa per questi striscioni vabbè finiamola qui speriamo di non vedere più queste cose che finalmente qualcuno maturi capisca che il calcio per quanto ci sia rivalità resta comunque un gioco uno sport dovrebbe essere un passatempo dominicale poi qualche vaffa qualche insulto si può scappare gli sfottò sono belli fan parte del gioco ma poi non bisogna mai andare oltre oltre un certo limite bene allora abbiamo fatto il nostro pronostico tu hai indicato il numero certo hai indicato il numero mi raccomando che chi azzecca il numero nel fare il pronostico ricordiamo o 1x2 poi il risultato della partita esatto i marcatori in minuto ma non è che dovete per forza indovinare tutto più cose indovinate più punteggio fate e se vi ricordate il numero se siete stati attenti che ha indicato Monica durante la trasmissione raddoppiate il vostro punteggio alla fine alla fine della stagione voi potrete c'è chi farà più punti vince la maglia autografata vi ho detto di Zanetti abbiamo dato una rosa di scelte visto che il capitano comunque è glorioso ma ormai è al termine della corsa quindi Palassio o appunto giriamo quella di autografata appunto di Hernanes quindi con anche la Monica dentro se fate un punteggio superiore ai 50 prendete anche lei offro la cena a chi vince la offro io dai va bene quindi oltre i 50 punti c'è anche la cena offerta alla Monica ma ci vai anche tu la cena o ci va da solo eh no ci vado anch'io ovvio andiamo da solo gli do anche la mia maglia quindi perfetto anche la Monica senza la maglia senza la maglia ok bene un saluto vi ringraziamo di averci seguito ci vediamo la prossima settimana dopo Roma-Inter e alla vigilia di una partita che sarà uno scontro per l'Europa perché l'obiettivo dell'Inter è entrare in Europa in Europa League quindi difendere il quinto posto avremo Inter-Torino ciao ci vediamo alla prossima sempre Forza Inter buonasera a tutti grazie per averci seguito vi aspettiamo ovviamente tutti sabato a Roma per la nostra partita Inter-Roma con ET e tutti noi esatto Roma-Inter Roma-Inter è lo stadio olimpico ET il nostro portafortuna ma quello che è importante è che c'è scritto sempre in Serie A perché questo non ce lo toglie nessuno noi siamo i soli ad essere sempre ad aver sempre giocato in Serie A qualcun altro no Forza Inter ragazzi seguiti la squadra vi vogliamo l'Olimpico è almeazza il 9 marzo per Inter-Toro tra l'altro vi ricordo che per Inter-Toro possiamo ospitare lo stadio i ragazzi fino a 14 anni gratuitamente nel primo arancio che è un settore bellissimo sì ci sono stata anch'io anche se non avendo più 14 anni ci sono stata anch'io ma ci sarai stata quando avevi 14 anni no in realtà no però va bene comunque ragazzi quindi potete contattare i numeri che aveva detto la Monica in precedenza vanno bene come anche gli indirizzi di post per prenotare i posti per i vostri ragazzi ciao alla prossima